Un convegno internazionale di altissimo profilo, di altissimo livello, che vedrà una prima parte realizzata a Mantua con inaugurazione al Teatro Bibiena e poi con i lavori che proseguiranno presso l'Archivio di Stato, ma soprattutto una seconda parte di approfondimento che si terrà a Roma. Quindi una collaborazione fra il distretto Regi dei Gonzaga con l'Università Europea di Roma e con la Diocesi di Mantua, ma poi anche un'iniziativa che si realizza grazie al patrocinio non solo del Comune di Mantua, ma anche del Comune di Roma e con il sostegno delle Diocesi, non solo quella di Mantua, ma anche la Diocesi di Roma e anche con il Comitato Pontificio di Scienze Storiche. Quindi un sostegno dato a questa iniziativa con enti importantissimi e soprattutto un'azione immateriale, quella di questo convegno, che è senza alcun dubbio l'azione immateriale nell'ambito dei 7 milioni di euro impegnati dal distretto culturale delle Regi dei Gonzaga per la promozione del territorio, di gran lunga l'azione immateriale di più grande spessore. L'altra cosa che volevo sottolineare è che il patrimonio di questo studio, di questo convegno non evaporerà a fine del convegno, ma rimarrà la grande quantità di informazioni che sono state raccolte che rappresenteranno un punto fermo della storia e del rapporto dei Gonzaga e quindi di questo territorio con la storia dei Papi. L'obiettivo è quello di fare prima di tutto una ricognizione di carattere documentario sulla numerosissima quantità di attestazioni di questi rapporti fra la Corte di Mantua e la Curia di Roma nei due secoli che noi consideriamo, che sono il XV e il XVI essenzialmente. Quindi il convegno è articolato in una serie di interventi che presentano ciascuno dei fondi documentari legati a questioni, situazioni e periodi specifici. I grandi protagonisti del convegno sono sicuramente i componenti della Corte di Mantua, ma anche e soprattutto i cardinali della famiglia Gonzaga in rapporto con i loro periodi, anche lunghi spesso, di residenza nella città di Roma e in rapporto con i Papi. Individuando questi personaggi, analizzando i documenti relativi a queste grandi personalità, emerge in realtà tutta quanta un'epoca, l'epoca dell'umanesimo e l'epoca del Rinascimento con le sue grandi contraddizioni, con i suoi problemi, le sue trasformazioni. Quindi il convegno infine sarà focalizzato intorno alle grandi questioni dell'inizio dell'epoca moderna, del passaggio dal Medioevo all'umanesimo e al Rinascimento, con il focus puntato sulle questioni istituzionali e sui rapporti fra le corti dell'Italia settentrionale, gli stati preunitari, gli stati di Ancien Regime e il Papato.